benvenuti a questa quarta puntata di come non giocare a left for dead siamo qui ciao ciao ball spain ed elven come al solito ciao ciao adesso questo è un pezzo abbastanza diretto se siamo se siamo veloci guardate la guardate ragazzi la tizia è passata nella porta che carina allora questo è un pezzo abbastanza veloce se lo facciamo diretti lo finiamo in poco tempo siate rapidi vada bozzi qua si passa l già lo sai che vabbè ho visto cosa ho visto medaglia ok il charger è meglio come nel gioco grande ciò che ci fa cadere che però mi fate andare non mi date il tempo e ho capito se il culone pesante o attenzione non era un boomer no 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 ma dai ma come ti ha preso ma ha saltato ma che che cheater ok ho rotto la telecamera e chi ti stava andando proprio sotto con la gattiveria mamma mia quanto è potente il suo fucile aspettatemi qua vedo se c'è la la parma di molla o la bile ora ma è un medico grosso è ok dove è il medico però no dopo ci dobbiamo tornare qualsiasi conserva per dopo giornata la domanda ma quale è linguacione che fa ma anche linguaccioso andiamo all'ascensore vedi come ha preso porto eblen ecco lì che arrivano cazzo c'era la seconda telecamera oddio ma sia per sicuro cascano dentro chialo no avere la posta quanto io lo valeva anche voi quando io che paura non sono pronto per queste cose guarda guarda che pazzi trilloni fa molto mission impossible ragazzi grazie per avermi sparato non eravamo qui prima sembra una witch no questo è il nuovo posto new place attimo sparato così alla cieca che potrebbe essere la signorina la ladies allora questo kitty non andare da sola è uno dei pochi posti di shadow moses che non è presente nel primo gioco ma viene mostrato solo nel 4 e ce l'hanno messo per competenza credo per fare di switch in gaming come sei colto ok dobbiamo salire queste scale qua valide queste scale le scale della vittoria c'è una sbilde di boomer vabbai bomb bimbi di bimbi bimbi di bimbi e' tutta una troia kitty mi ha fatto 4 di danno amichevole scusa amico era una pacca sulla spalla un po' con il fucile poco amichevole io da una botta una botta una botta oh 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 ma che faccio scendete in questo stanno arrivando in forze dai nel senso che non si sa se arrivano ok scusate si non è ma è il tuo nuovo amico quel barile c'è nessunzione in partitana no ho detto ah si bozza è un nuovo amico quel barile no ho detto guarda che il salino ok la ci sono munizioni se volete prenderle munition amo più e' GPL e' GPL e' propano e' propano forse è amico del propano il studio scuola il metano ti da una mano aspetta un attimo aspetta un attimo e' todo ok la sentite? è la witch che piano ma secondo voi vogliamo salire sopra affrontare la witch per prenderci roba utile manco per il cazzo scendiamo ok qua c'è una pillola aspetta stanno le pillole prendi le kit prendo io e'io 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 eio e'io eio il ok ti resta giù resta giù va bene attento dietro dietro pain ecco oddio pain perchè voi non mi aspettate che siete deficienti del cazzo sei lento madonna sono mi fanno male le gambe già sono un piatto io ci sono una panza guarda io ci ho la panza il mio diritto è un grasso guarda guarda quanto santo gpl mangia il gpl Ok ragazzi aspettate Non uscite Dobbiamo prima beccare la telecamera Fermi Eccola Aspetta Non l'ho presa Vai Qui c'è un bugile a bomba Perché me lo prendo io Non l'ho presa Ma come ha allertato l'ord? A me non è uscito niente Sto scherzando Si scherza, si gioca, si ride Si fanno delle situazioni Si sparano i compagni Oh 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 Pain curati e vai a prendere il kit Ah tipo veloce perché Ciao Mipo ti presento GPL Ok molotov è qua Pain corri Pain E qui c'è una siringa Siringa Prendo Eh c'è la bilba No la siringa la prendo io Ok come andiamo Vedete qua Cori cori bolz Boom bow here Boom bow here Boom boom baby Oh my god Oh my god Addio ragazzi è stato un omore Lottare con me No Cerchio di spararmi Boom Boom baby boom Reloading Il mio amico si è sacrificato per noi Il propano Addio bombola di GPL Il propano Allora ragazzi Pure questo ascensore Lo ricordate E' un po' complicato No ma più che altro mi vorrei dire che ci avevo speso le ore a sentire le viste mentali di Naomi su Snake Mi ama Quanto mi ama Snake ma perchè ti chiami Snake Esatto Eh Ma perchè io sono cattiva Di vedere che Snake io che c'ho su No c'era tutta una cosa che lei in realtà era il suo supporto medico Poi però in realtà ti aveva avvelenato Poi però non ti aveva avvelenato Non ti aveva messo un Uuuuh Una mucca Le lano macchine dentro Il fox die E' tutta una cosa E' tutta una cosa E' tutta una cosa Io ho detto niente E poi si scopre Vabbè tutte cose Pain Ma dici un po' perchè si chiama Snake Eh 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 E' me lo sa Ehi Bolzen Ragazzi Bolzen Sei stato accettato Si però Così mi sembra davvero Così no Ok ragazzi Adesso dobbiamo entrare Nella famosa stanza dove affronta Dove Snake affrontò per la seconda e ultima volta Vulcan Raven Ok tutti dentro No vici dietro Cazzo Non giratevi dietro Ok No cazzo Oddio entrate 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 Ma torna la merda Ok e ovviamente Invece di Vulcan Raven Ti sarà un bellissimo Oddio Spostatevi Spostatevi Via 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 No raga Tutti dritti in faccia Mi ha detto spostatevi No sono in un angolino Vaffanculo Mi ha buttato a terra Attenti che esplode tutto Oddio S'ho finito il fuoco Sì l'abbiamo ucciso Ho penito Grande Zombie 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 Ok Ok Oddio Oddio qui c'è ancora la bitch Ma io la lascio là Ma se poi richiede per la porta No Reloading here Qua c'è un buco Qua c'è un buco Tieni usa questo Stai salutando con la ragazza Paine vieni qua dove so io Prendi la bile che sta dentro Lo zapper lasciamolo là Attenti alle botole Ma la bitch Non ce la sentiamo proprio Di ammazzarla No la bitch non si tocca proprio La bitch sta bene là Cioè è inutile rischiare così tanto Per nulla Aspettate prima di entrare Controlla una cosa qua C'è un zombie C'è una molotov Se la vuoi Per l'altro zapper No niente Non la puoi Anzi Fa una cosa Kitty curati Usa lo zapper Poi prendi lo zapper Oh guardate Guardate sotto Questo era un pezzo molto Spawned Cioè Diciamo C'hai paura di cascare Madonna Non ci giocavi nel lune Sto giochi ci perseguita Ma perché qui sono dei minigun Si era Si sparavano nel lune Entra Bolz Entra Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yes Ok Chi ti ti difesa Generale Ovviamente Oh ma dai Ho sparato un sacco Il tank Infatti Pure io Ma fa un culo Bolz Sempre Bolz Raccomandato Ehi Ho superato Bane Zero Zero Ma perché No ci abbiamo Hit Ok ragazzi No ci abbiamo No ci abbiamo No ci abbiamo Grazie.